Amici appassionati di Call of Duty, bentornati in questo nuovo video, riprendiamo dove ci eravamo lasciati con la nostra campagna Mi raccomando, fatemi sapere sempre la vostra, un bel commento, un like sulla sua descrizione Allora, l'obiettivo è raggiungere gli alleati al mulino a vento che è lì Il problema è che noi non abbiamo nessun'arma, bene Allora, il mulino a vento abbiamo detto che è lì a 18 metri Con molta leggiatria ragazzi, io andrei, è proprio... Sì, molto molto leggiatri Solo vi strisciamo sull'erba Anche perché, sapete com'è, essere senza armi Merda, ma sono qua questi, oh Eeeh, non si può avere un... No, sto bruciando vivo, porca miseria, porca Non stanno i nemici, io non li vedo Posso? Vabbè, io allora vado, eh Mi infratto qua Stanno sparando a me, no? Lo stanno sparando a me, giusto? Mi sto cagando un po' sotto, devo essere onesto Mi sono bloccato Mi sono buggato nell'albero Ok Se io accendassi alle spalle da questo Flash Vedo la luce, non vedo... Eccoci No Merda Nasconditi Ti salvo io T'ho salvato T'ho salvato, amico mio T'ho salvato Lì, grazie, è morto È morto? Oh, cazzo Devo andare Oh, l'arma Sì, dammi l'arma Non vedo niente Sono morto? No, so vivo È morto lui, però Vabbè No, mi dispiace Merda, merda Capitano Lord Come te chiami? Eppure te, però Che Sganci di da solo Aspetta, già mi sono perso Dove devo andare? Di qua? No, di qua da dove siamo andati Ho solo due colpi, eh Quindi Io andrei un attimo A vedere se quello ha dei colpi Da fare niente Vabbè Continuiamo la nostra marcia trionfale Sta andando tutto benissimo Tra l'altro Ok, nascondiamoci un attimo Mi sembrano un po' troppi Da uscite con due colpi Con questo car Bene, andate, eh Andate e moltiplicatevi Mi raccomando Ma il nostro amico Lasciamolo stare Ok Quelli sono nemici, giusto? No, dovrebbe Dunque Andiamo di qua Siamo ancora un po' troppo lontane Per sparare Quindi io cercherei di avvicinarmi In modo Molto furtivo Anche perché Allora, là ce n'è uno Se non riusciamo a Uccidere senza sparare Ma questo Ah, è di spalle Perfetto Però quello lo sta guardando Là Mi ha visto? Non mi ha visto Non mi ha visto Con molto stealth Siccome Sam Fisher farebbe Piano, eh Piano Piano Merda Si è girato Giustamente E un'ora che è fermo Si deve muovere Per forza adesso Piano Piano Eh Vai Piano Munizioni Non ha niente Questo Ma che cos'è Un Un disgraziato Era Là c'era un altro Che è poi sempre quello No Merda Vadi 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 Bravo Allora Appena lui si gira Possiamo andare da questo E poi andare da quello Ok Vai ora Vai ora Bravo Vai Puoi andare da questo Un attimo Ricarichiamo Perfetto Facciamo pure questo Ma Bene Beh Almeno abbiamo delle armi adesso Cioè Perlomeno un car Con Undici colpi Invece che due Quindi questo non è nient'altro C'è ancora uno Là sotto È rimasto solo? No Sono altri due E questi Gli dobbiamo sparare Allora Facciamo così A questo gli spariamo A questo lo eliminiamo È uno È due È Tre Là È Perfetto Hai visto? Non è ci voleva molto Che cos'è? Cerca 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 Cerchiamo tutto Munizioni Ci serve qualsiasi cosa Ragazzi Ci serve qualsiasi cosa Abbiamo anche Tablo Visurizzo e obiettivo Aspetta Prendi la munizione No Ho sbagliato Tasto Bene 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 Qualche cosa ha questo uomo? No Sbaglio sempre Tasto Visurizzo e obiettivo Raggiungi gli alleati È qualcosa Sono arrivato Sono arrivato Salve Siamo amici? No Ma dov'è? Oh Ma chi è che spara? Chi non mi ha sparato? Ma che cazzo è che spara? Ma Ragazzi c'è un fantasma che spara Ve lo giuro Ma chi è che sta sparando? Ma che so Cretino io non lo vedo O è un bug? Oh Senti È rotto i coglioni Oh E basta E che palle E pure te Ma vaffa E basta E fatele vedere almeno Abbiate il coraggio No Invece di 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 Colpire le spalle Colpire Ok Ok Tutto molto strano Bello L'MP40 Posso prenderlo? Grazie No 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 Stavo scherzando Ma perché non mi fa la scivolata? Vabbè Non lo so Allora Allora Diciamo che avete abbondantemente rotto i coglioni Non vorrei dire nulla Apri Grazie L'altro cosa? La Grazie E basta Basta Quando è troppo è troppo C'è poi interaggiunto Che cos'è questo fischio? Poi un minino potevo metterlo Non vedo nulla Non vedo Ma quanti so? Oh La E' lì Le No quello è un tronco Scusi L'ho scambiato per un umano Un attimo che carico E' datermi una mezz'oretta e arrivo Ci sono Mi stanno lanciando roba Non è amichevole Molto No 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 Ma porca miseria Porca Ho capito Eh ho solo 16 colpi Però qua No il cane no Il cane no 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 il cane no No Oddio Questo dove cazzo sta sparando? Non lo vedo Questo è un infido No 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 Mamma mia Che shot pazzesco Dalla distanza signori Un attimo Cerca copertura Eccolo là Bene Ciao Ci saluta pure lui Mazza che sfiga però Ci sono capito Nella mina precisa Ci sono andato Aspettate Ma Eh Qua si fa Si fa brutta qua Perché non Non li vedo E se non li vedo Non li vedo Ah eccolo là Aspetta Quello ho mancato Che mi sa che sono due Che sparano Mi do avvicinare Dobbiamo prendere quelle munizioni Ci dobbiamo avvicinare Se non ce la facciamo Vai Vai No Non spari Signore maestro Scusi Ok Ci avviciniamo un attimo Oh bene Da qua abbiamo più visuale Perlomeno E affaccio Quella testolina Là Ok Uno va Affacciati pure tu Che non ti affacci? Ah va Questa è una testa Porca miseria Pure questo No 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 Aspetta aspetta Carica un attimo Con calma Ah che è? Si sposta Che fa le finte Oh Ma porca Ma che è immortale questo? Dei immortal L'abbiamo qua Oh E basta Porca miseria Ah Cerchiamo Ok perfetto Munizioni Sia per il car Che per l'MP40 Abbiamo gente? No Alte munizioni qua Perfetto Grazie Cerca 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 Che trovi Cerca Che trovi Per posizionare l'arma Non ci interessa Andiamo avanti Qua Che prendiamo altra roba Carichiamo anche qui Ricarichi munizioni Perfetto Oh Alla grande Andiamo Dai Si è messo un po' meglio Il coniglietto Ma Ti è Stato inghiottito dal terreno Un altro coniglio Perfetto Almeno è tornato a far Poi le scivolate Arrivano dal pienile Non vedo nulla No Questi sono gli amici Giustamente Vabbè Allora ci vado da qua Guardi Eh Vai Faccio irruzione da qua Tanto non se l'aspettano Andiamo a fare irruzione Oh cazzo Oh ma che Ma come fanno a vedermi A saperlo Oh oh Esploso No Aspetta Dove sei? Là Che hai fatto? Ho fatto pure questo Tirata la lancia Prendila Bravo Che te ne lancio Una porca L'ho fatto? No Ovviamente no Alle spalle Top break Vai Oh Maestri Salve Sono amico Kingsley Ti abbiamo preso per un cruco Stavamo per riempirti di piombo Anche a me Mi hai preso un colpo Effettivamente Che fasi In ginocchia? Non c'è bisogno Sia tranquillo Raggruppati Ebbè E tre ore Che stiamo qua Ma un po' De merda Diciamo Capitano non c'è più Siamo da soli ora Vinceriamoci In attesa Che la sesta Si riorganizzi Henry L'artiglieria va distrutta entro l'alba Oppure l'invasione fallirà Così ora ti credi il capitano Il sole sorge tra un uomo Non perdiamo tempo Sì ma non arriverà un cazzo di nessuno a salvare la baracca Qui non ci resta che crepare o salvarci la pelle Oh e finiamola dai Ormai Ok Kingsley Sei al comando ora Le case matte e il balalla Sono di là Eh Andiamo dai Su Dai Senza troppe discussioni Check point raggiunto Bene Allora raggiungi la batteria di cannoni Questo è il nuovo piano ragazzi Mentre controlli arto Premi 8 per impartire ordini Beh certo 8 è un po' Apriamoci un banco Sentito il sergente Facciamoci l'arco Sì Però proprio 8 è un po' complesso Da andare a premere l'8 Non c'era un tasto un po' più comodo Vabbè Allora Cerchi nella cassa Qua Granata lancio Ce la prendiamo Possono essere sempre utili E con vigimento al massimo Io avanzo intanto Eh Qua non c'è sta nulla Eh bravo Deio Meno male C'è qualcuno Almeno mi apprezzo E la batteria di difesa costiera Il ponte è presidiato Il terrapieno troppo ripido Prenderemo il ponte Non c'è altra scelta Sei tu il capo Eh beh Cattura la testa del ponte Là sotto Ok scendiamo allora Vai Che non fa lo scato E arriva un camion giù Attacca Fuoco 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 Che cazzo sta da fare Ma te che via del merda Aspetta Mi metto dietro il sassolino Aspetta Ci erano davanti Ma sono dei soldati ciechi proprio E basta Stanno arretrando Ma che cosa arretra Lei arretra Dove? Dove arretra? Questo è morto Attacca Dividiamoci No che dividiamoci Dobbiamo attaccare Vabbè Dividiamoci Aspetta Aspetta Ok Attacca Attacca Bravo Fermate quello Che è arrivato L'ottico Io Guardo Là Vabbè È possibile Ci doveva arrivare No Vabbè È troppo lontani Troppo lontani Levati Forca miseria Granata Granata Prendile Ma che attacco Lo faccio io No? Ma Ehm Insomma Stanno lanciando un po' di roba Dobbiamo dire Che sono equipaggiati molto bene Conto riguardo L'equipaggiamento tattico Quello sicuramente Vai 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 Carica 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 ragazzi Dai Che Forse che è Fumoglio Però Però Non ci possiamo nascondere Ok Carica Non ho più colpi Bene Qua che siamo sparati Oh Non ho più colpi No Ma hanno fatto Ma porca miseria Ma questi non mi proteggono mai I colpi sono un problema Sono un problema Carica Carica Per carità del signore Carica Dobbiamo attaccare Il cingolato Ragazzi Levate messo il cingolato Ah mamma mia che fastidio Senti Allora Quello L'altro qua L'altro qua L'altro lì Perché non me lo prende Porca Ok Vai vai Lancia tutto Fai esplodere tutto Fai esplodere Eh hanno rotto Con tutto il bene Che chi vuoi Mazza pure loro Però Quella finestra Hanno rotto Chi è? Oh Chi è? Ah no scusi Eh che ne so Ma hanno sparato Avanza Avanza Maestro Avanza Avanzate Boys Eh cerca Ok Munizioni Bene Datemi munizioni Mi servono Apri Oh salve Ok Oh c'è Oh c'è un altro qua dietro Non l'ho visto Scusi Era ben nascosto Complimenti Per il nascondiglio Vai 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 Mi viene sempre di mettermi le corazze Ma non ci stanno corazze Un attimo eh Eh ho capito che faccio La Fatta Vai Avanza Oh Chi è? No il semi cingolato ci serve? No questo è un maestro nostro Eh porca Fatto Eh quello è difficile da pigliare Sì sì vai avanza Merda Avanza Oddio il carico Fatto quello del semi cingolato ragazzi Non me fate morire ora Ma porca miseria porca E copritemi Mamma mia Che bandate ignoranti Ma che soldati stanno Meromai che Il checkpoint era appena arrivato Vai vai Spingi Spingi Attacca E che otto Mamma mia Che possibile Quello è troppo Poverso Poi non vedo Non ci vede nulla Attacca Attacca Eh fuoco Dai Non è che ci vuole tanto a capirlo No Oh E se è tolto delle palle Vai Avanzo Raga io avanzo Oh merda Oh cazzo Forse sono avanzato un po' troppo Sono avanzato un po' troppo Sono avanzato un po' troppo 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 Sono avanzato No sono troppo One shot Aspetta Ok No Anche io Prendiamo il ponte Prendiamo il ponte Vai Ma in queste case posso Troppo No Daniel Attacca Attacca Aspetta Fatemi entrare qua un attimo Voglio vedere se ci stanno munizioni Perché sono a corto Sono a secco pure io Perché loro hanno sempre munizioni Non ne ho mai Non capisco pure questo Vabbè Oh 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 Attaccate a sta mitragliatrice però Manco li vedo io Avanzo Copritemi Attacca Attacca Torre 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 Datemi tempo Non mi mettete ansia Non mi mettete L'ho preso? No, forse no Aspetta Un attimo Sono un po' one shot Oh forse si Vabbè io un'altra Per si è per noi appunto Ok Andiamo Uh è stato intenso ragazzi Andiamo Io, io No, ok Guida lui Ok saliamo allora Mota su, vai Molto intenso Molto bella Però mi sta piacendo Veramente tanto ragazzi Molto Più di quella di Cold War Questa sfumacchia Un bel casino coi fiocchi Eh beh Un po' si Che chiave Il sergente ci ha riuscito Siamo ancora interi no? Così pare Otto uomini Contro un fortino nazista Secondo Richard ero diventato matto Ma a volte Serve un pizzico di follia Credo che nel profondo Se ne rendesse conto Eravamo fatti della stessa pasta Molto bella anche Questa tipologia di narrazione Con la voce Policampo Che Racconta Ciò che sta Accadendo Ok 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 Nuovo obiettivo Preparati ed attaccare La batteria Di cannoni Allora siccome qua Già batteria di cannoni Mi suona un po' difficile È un po' Che richiede un impegno particolare Noi ci salutiamo qua Anche perché siamo Circa a 20 minuti di video Quindi va bene così Carichiamo Così siamo pronti Per Inizio video Questo è carico Non abbiamo mai munizioni Però Ma nessuno ha delle munizioni Da darmi Non si sa Quindi Fatemi sapere la vostra Ovviamente qua sotto In commento Un bel like Un'emozione Iscrizione Per Anche farmi sapere Se vi sta piacendo La campagna Se aspettate Vanguard L'ha aspettata Anche la nuova mappa Di Warzone Insomma Fatemi sapere un po' Tutto ciò che circonda Il mondo Call of Duty Detto questo Noi ci vediamo domani Con due Un fantastici video Ciao Ciao